Il prezzo del gas e dell'energia è un problema per le imprese e la mancanza di manodopera specializzata lo è ancora di più. Il Centro Studi di Confapi Industria Lombardia ha recentemente condotto un'indagine fra le associate ad Apile Ecosondo in riguardo alle risorse umane. Il quadro che ne esce di grande preoccupazione per la mancanza di personale tecnico specializzato ma anche di fiducia negli istituti tecnici per la formazione dei futuri lavoratori. I numeri sono sconvolgenti soprattutto in un periodo di crisi. 6 aziende su 10 denunciano la mancanza di competenze specialistiche tra chi si candida a lavorare. Per altrettante mancano candidati che si presentino a sostenere colloqui legati alle posizioni offerte. I lavoratori vengono reclutati sia tramite agenzie di selezione sia tramite conoscenze ma il problema resta. Non si trova personale con competenze specializzate in ruoli operativi in primis e di tipo tecnologico-ingegneristiche poi. Un problema che riguarda l'80% delle aziende interpellate. Per cercare di affrontare la questione soprattutto in ottica futura le associate ad Apile e Cossondrio ripongono fiducia nella formazione offerta dagli istituti tecnici del territorio. Il 48% ritiene poi utile la formazione degli ITS per le imprese e il 28% solo per alcune figure in particolare quelle legate ai percorsi di meccatronica. La mancanza di tecnici specializzati nelle nostre aziende è un problema che aumenta di dimensioni. Velocemente spiega Enrico Vavassori, presidente di Apile e Cossondrio. Per risolverlo nell'immediato la formazione aziendale può tornare utile anche con percorsi dedicati per chi si vuole ricollocare a livello lavorativo. Sul medio-lungo periodo, prosegue il presidente di Api, gli ITS devono fare la differenza ma anche noi imprenditori dobbiamo essere capaci di far capire ai ragazzi che scegliendo questo percorso di studi hanno un futuro assicurato sul territorio e possono avere una bella carriera davanti a loro anche sotto il profilo economico. Fare l'operaio oggi, concludeva Vavassori, significa lavorare in un contesto altamente tecnologico nel quale far crescere le proprie competenze.